Arriba l'estate in tutti i sensi con il sostizio del 21 giugno che segna l'inizio astronomico della stagione ma anche con le temperature. Conclusa la fase stabile che per due mesi da metà aprile a metà giugno ha prodotto una quantità fuori dal normale di pioggia si apre dunque una fase di bel tempo e caldo che non sarà da record ma sarà di tutto rispetto secondo gli esperti a causa dell'anticiclone africano. Con i suoi effetti le temperature la prossima settimana secondo la tendenza meteo potranno arrivare a 39-40 gradi localmente in Sicilia. Questi valori dovrebbero essere raggiunti dopo due o tre giorni di riscaldamento africano quindi verso il 20-21 giugno. Le temperature fanno sapere gli esperti sotto i livelli standard negli ultimi giorni saranno nella media del periodo fino a lunedì martedì salendo gradualmente fino ai giorni di picco previsti appunto per la metà della settimana quando si arriverà ai 35 gradi vicino alle zone costiere. Si toccheranno i 36-38 dove non si avverte l'effetto della brezza marina fino a picchi attorno ai 40 gradi nell'entroterra. Intanto sarà attivo fino a metà settembre il bollettino sull'ondate di calore del Ministero della Salute che fotografe prevede il rischio caldo per la salute in 27 città italiane soprattutto per i soggetti vulnerabili. Partito a metà maggio il servizio è pubblicato da lunedì al venerdì. Alle 27 città viene assegnato per il giorno in corso e per i due successivi un bollino che può essere verde, giallo, arancione o rosso. Fra le città monitorate ci sono anche Catania, Palermo e Messina. E con il caldo cominciano anche le allerte per gli incendi e le ondate di calore. Secondo il bollettino pubblicato dal Dipartimento regionale della protezione civile la Sicilia è stata già inserita nelle condizioni di allerta arancione. È un livello di pre-allerta con rischio basso ma segna il cambiamento repentino delle condizioni visto che qualche giorno fa si parlava ancora di allerta meteo per le piogge. Oltre il 90% dell'opera completata ma con i lavori fermi per un mese e con la preoccupazione che il viadotto ritiro, anello di congiunzione tra le autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo fondamentale per la mobilità non solo di Messina ma di tutto il territorio, potesse rimanere un'incompiuta. Invece oggi a meno di clamorose sorprese questa è un'eventualità che dovrebbe essere scongiurata. Il cantiere avviato sei anni fa e che sarebbe dovuto durare 24 mesi ha come progetto la ricostruzione del viadotto da 900 metri che sovrasta il rione di Giostra. Il braccio di ferro tra la totocostruzione ed autostrade siciliane per il riconoscimento degli stadi di avanzamento lavori ha trovato un punto d'accordo e l'azienda che sta realizzando l'opera ha potuto riaprire il cantiere dopo aver rinnovato il DURC. Il primo passaggio fondamentale sarà quello di realizzare un bypass sullo svincolo di boccetta che consente agli automobilisti provenienti da Palermo di poter proseguire verso Catania. C'è la necessità infatti di dover chiudere l'uscita di Giostra per consentire la demolizione dell'ultima campata del viadotto Lato Monte, passaggio che potrà essere compiuto una volta completato il bypass di boccetta su cui hanno ripreso a lavorare gli operai. Operazioni che dovrebbero essere completate entro il 26 giugno e quindi da quel momento si lavorerà sulla demolizione e la ricostruzione del viadotto che secondo le previsioni del progetto dovrebbe essere conclusa entro sei mesi anche se ci sono buone speranze che già alla fine di novembre si potrebbe vedere l'opera completata. Poi per l'effettiva riapertura occorreranno almeno altri 40 giorni, due mesi per le prove di carico e di collaudi ma la strada ormai sembra essere in discesa per un'opera che da sei anni impone pesanti ripercussioni anche sulla viabilità cittadina. In una salina radiosa calda e piena di turisti si celebra l'artista che contribuì con un film icona a rendere l'isola più verde e prosperosa delle olie famose in tutto il mondo, Massimo Troisi. La dodicesima edizione di Mare Festival premio Troisi arriva a 70 anni dalla nascita dell'attore napoletano e a 29 dall'uscita del Postino. Proprio per quel film una delle attrici premiate sul palco della piazza di Malfa, una giovanissima Vittoria Belvedere, fece uno dei suoi primi provini. Cercavano una ragazza mediterranea per girare il film Il Postino. Lui rimase un po' sorpreso come per dire evidentemente non ti hanno detto chi sto cercando e io gli ho detto sì insomma una ragazza mediterranea, io sono calabrese quindi ingenuamente e mi dice sì tu sei calabrese mi ha detto, gli ho detto sì, dice no ma non è possibile, però ti prometto che laddove dovessi cercare un personaggio con i tuoi canoni, quindi i tuoi colori, ti richiamerò. Poi ovviamente quel ti richiamerò non c'è stato, però insomma solo il fatto di averlo conosciuto, di essere lì davanti a lui, per me insomma era già, andava benissimo così. La rassegna cinematografica fa incontrare i protagonisti dello spettacolo con il pubblico in una cornice unica e con un rapporto diretto, tu per tu, poetico e intenso e diventa anche volano di turismo. Anche quest'anno abbiamo registrato un boom di presenze in tantissime strutture ricettive quindi davvero diventa la cultura e il cinema uno strumento assolutamente importante per il lancio della stagione estiva e anche per offrire ai turisti che comunque a prescindere sarebbero qui a Salina, uno spettacolo e trasformare Salina in una piccola capitale del Cina per qualche giorno. Tra i premiati di quest'anno l'attrice e il regista Michela Andreozzi. Io ho i genitori napoletani e ricordo benissimo il giorno in cui mi dissero vieni a vedere una cosa in televisione, era sera quindi per me era una cosa speciale rimanere in piedi a vedere la televisione con i miei e vedevo i miei genitori che ridevano moltissimo per la smorfia, per Truisi eccetera, quindi l'ho conosciuto da figlia e ho continuato ad apprezzarlo da artista, un artista che resterà sempre giovane. E poi ancora Luca Barbareschi, l'autore e regista Massimiliano Bruno, Enzo Iacchetti, Lucrezia Lante della Rovere. Sembra un paradiso, un paradiso terrestre, basta guardare qua davanti, è una cosa sconvolgente e io verrò tutti gli anni Massimiliano, sono anni che mi invita, purtroppo non ero mai riuscita ad arrivare perché è vero che non è facile, però come tutte le cose belle sono difficili da conquistare e le olie hanno questa caratteristica. È un posto che dovrebbe scegliere per fare tutti i film perché un posto così dice dove vai a girare un film, a Salina, alle olie, così rimani lì e non torni più almeno per sei mesi. La cultura è sempre l'ultimo raggio di sole prima che pulire. L'omaggio di Edoardo Leo al maestro Gigi Proietti con il monologo sulla libertà è stato uno dei momenti clou della serata di gala del Tao Book al Teatro Antico. Proprio il tema della libertà è il fil rouge di questa edizione. Ad aprire la premiazione con il Tao Book Award for Literary Excellence è stata Zarna Fisi, la scrittrice iraniana, autrice di bestseller come leggere Lolita Tehran, attivista nella lotta per la libertà delle donne contro il regime degli Ayatollah. Stesso riconoscimento anche per il premio Nobel 2022 Annie Ernault, tra gli ospiti più attesi di questa edizione, e per la scrittrice americana Joyce Carol Oates. Tre scrittrici, tre intellettuali, tre pensatrici che hanno fatto della libertà uno strumento per indagare la condizione del femminile nel mondo e non solo. La musica classica contaminata da sonorità pop del violinista tedesco David Garrett ha travolto il pubblico del teatro. Sono felice di essere qui, il clima è fantastico, la gente è accogliente, il cibo incredibile così come questa vita. Tra gli italiani sul palco anche l'attrice Valeria Golino, che in Sicilia ha realizzato la sua prima serie tv da regista, dando voce alla libertà e al coraggio della scrittrice catanese Goliarda Sapienza. A ricevere il Taobuk Award anche la cantante siciliana Levante, che ha emozionato il pubblico con il brano Mi Manchi, e il regista e attore Michele Placido. A volte quando vado al nord dico, a parte che a me a Roma, ma anche in Germania e in francese ti chiamano il siciliano. Tra i premiati ancora la direttrice d'orchestra del Bellini Gianna Fratta, lo scultore italiano Giuseppe Penone, la coreografa Giulia Staccioli. Il premio per la scienza è stato conquistato da David Quammen, scrittore giornalista del National Geographic, mentre l'ultimo Taobuk Award è stato consegnato al presidente del Catania Ross Pelligra. La serata è stata condotta anche quest'anno da Massimiliano Sini e dal presidente e direttore artistico di Taobuk Antonella Ferrara.